Un commento da Via Reggino, partiamo da Luca Lombardi, come hai visto questa gara? Hai praticamente messo una bella ipoteca su questa partita con diverse azioni, diverse reti? Credo che i ragazzi di Mirko siano stati molto bravi, visto che comunque gli mancavano diversi giocatori e noi siamo stati comunque bravi nel mantenere sempre il distacco durante la partita e sono molto contento del risultato. Cosa è mancato questa sera? La retta della bandiera è arrivata a solo i 55 secondi dalla fine. È mancata la freddezza, la cattiveria davanti porta, siamo stati poco cinici, potevamo fare diversi gol ma ci è mancata la fame. Grazie per questo commento di Carrieri, noi ci rivediamo al prossimo incontro qui al Dorando Petri. È tutto questa sera, partita conclusa sì per 6 a 1 a favore dell'Hockey Forte dei Marmi. Un caldo saluto a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento.